E' iniziata la nuova era della Camera di Commercio con la fusione degli enti camerali di Arezzo e Siena. Questa mattina si è insediato il nuovo Consiglio. Il Consiglio, presieduto dal consigliere anziano Marcello Alessandri, coadjuvato dal commissario ad acta Giuseppe Salvini, ha subito proceduto per acclamazione all'elezione del senese Massimo Guasconi come nuovo presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena. Tra 15 giorni il Consiglio tornerà a riunirsi per l'elezione della Giunta Camerale, che sarà costituita da otto membri, compreso il presidente Guasconi. Suo vice dovrebbe essere un aretino o una retina, si fa fortemente il nome, di Anna Lapini. Il presidente Guasconi, nel suo intervento, dopo aver ringraziato i consiglieri per la fiducia accordata, ha evidenziato come il percorso di creazione della governance del nuovo ente che manterrà la sede ad Arezzo, sia stato caratterizzato da un clima positivo di collaborazioni tra le associazioni di rappresentanza economica di Arezzo e Siena, un clima positivo derivato anche dalla constatazione che i due enti camerali, oggetto di integrazione, fossero entrambi estremamente sani dal punto di vista economico-finanziario ed efficienti dal punto di vista operativo, sussistendo anche tutti i presupposti per rafforzare in un'ottica di sinergia i servizi camerali a favore dei territori. Una potenzialità accolta da tutte le associazioni di categoria dei due territori, è una dimostrazione di una comune unità di intenti, dicono dalla Camera di Commercio, finalizzata ad operare congiuntamente a favore del sistema economico delle due province. La nuova Camera di Commercio di Arezzo-Siena, per numero di imprese, export, imprese innovative, componente manifatturiere e molti altri indicatori, potrà competere direttamente a livello regionale con la Camera del Capoluogo e a livello nazionale sarà tra le più importanti Camere di Commercio italiane. Il dottor Giuseppe Salvini, già segretario generale della Camera di Commercio di Arezzo e commissario ad acta, svolgerà le funzioni di segretario generale anche della nuova Camera di Commercio di Arezzo-Siena.